25 novembre 1963. L'opinione pubblica era ancora scossa dall'omicidio del presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che proprio quel giorno fu sepolto, ma una notizia che arrivava da Taranto sconvolse gli elbani. Il Pola, una delle prime motonavi a fare servizio di traghetto fra Piombino e l'Elba e che molti ricorderanno per come imbarcava e sbarcava le auto attraverso una imbracatura e una gru, ebbe un grave incidente mentre si trovava in bacino a Taranto. Una persona rimase uccisa negli incidenti e altre 14 rimasero ferite. A perdere la vita fu il comandante del Pola, il portoferraiese Giuseppe Palombo, 33 anni, mentre altri tre elbani rimasero feriti, il campese Giuseppe Vitiello, il portoferraiese Franco Corzi e il longonese Giuseppe De Luca. Ero giovanissimo, ci ha raccontato De Luca, una vita passata a navigare per la torre, ma che allora era la navigazione toscana. Eravamo arrivati a Taranto il giorno prima, portammo la motonave Egilium a Manfredonia e la notte stessa prendemmo in consegna il Pola per raggiungere Taranto. Trammo nel bacino galleggiante intorno alle 10 e ci preparavamo già per il pranzo quando accadde la tragedia. Probabilmente il cedimento di un puntello di cemento armato fu la causa del disastro. La nave scivolò violentemente su un fianco, chi si trovava a bordo subì un grosso contraccolpo. Il più grave di tutti proprio il comandante Giuseppe Palombo, che fu trasportato in ospedale in condizioni disperate e morì poco dopo. Giuseppe Palombo lasciò la moglie Marisa e i quattro figli Sandra, Marco, Andrea e Federica. Il Pola, costruita nel 41 presso i cantieri navali di Trieste, fu requisita in tempo di guerra come incrociatore ausiliario. Nave veloce, capace di trasportare fino a 500 passeggeri, dal 1948 entrò in servizio sulla linea Portoferraio-Cavo-Piombino, dove restò fino all'incidente. In seguito fu venduta all'armatore napoletano Francesco Aponte e venne impiegata sulla Capri-Ischia-Sorrento, ravigando poi anche nell'Adriatico e nelle isole Tremiti. Dopo oltre 50 anni di navigazione è stata dismessa nel 1997.